L'acqua è bastarda, è litale, è la nemica numero uno dell'uomo. Tu dimmi se hai mai sentito di reumatismi causati dal barolo? Non hanno mai fatto un mose per evitare i danni provocati dal vino alto. La natura ci insegna che tutto è temporaneo. Tipo i vincitori di Sanremo, quel mamaluc e brancaluc, brando branco, blu... E ho visto che non sono genuini. Mortificano la madre terra usando l'autotune. Ma anche la vibrazione della voce. Deve essere vera, pura. Per esempio, quando capita che sei chinato a raccogliere i prataoli e l'orso in calore ti fa, ci crede ai giganti, ma non col ginocchio. Lì la voce ti esce limpida, forte, in sintonia con la natura.